In un altro paese, in un paese normale, un ministro della sanità, mi spiace della salute, come diavolo lo volete chiamare, convocarebbe Zambon, gli darebbe anche una stretta di mano, direbbe bravo che ha avuto il coraggio di dirci la verità, perché così il nostro paese non sbaglia una seconda volta, perché invece anche nella seconda ondata che stiamo vivendo abbiamo di nuovo sbagliato. Se si ascoltava gente come Zambon, forse non si sbagliava, posso avere questo sospetto? Forse Bergamo quei morti non li avrebbe avuto e quelle migliaia di morti ne avrebbe avuti di meno. Ecco perché bisogna rispondere, caro ministro. Qual è il punto? Che questa email inglese, noi l'abbiamo tradotto, cosa fa? Dice che in realtà nel 2006 il ministero della salute e le regioni hanno approvato un piano di preparazione nazionale contro l'influenza pandemica, riconfermato nel 2017. Cioè lei dice, attenzione, in Italia non è stato fatto nulla, si è preso quello che era nel 2006 e si è riconfezionato lo stesso piano, non è stato mai aggiornato. Questo è il primo passaggio che crea una tensione. Poi ce n'è un altro, glielo faccio vedere immediatamente, che è il punto in cui mette in grande difficoltà l'immagine dell'Italia. Perché? Lei dice, la reazione iniziale, ricordo tutti che siamo in piena pandemia, questo dossier analizzava come era stata la reazione degli italiani all'inizio. Il paese Italia e anche altri paesi, però sull'Italia dice questo. Impreparati per una simile marea di pazienti, la reazione iniziale dell'ospedale italiana fu improvvisata.